ok ok ma cosa sta spregando legno che adesso tra poco muore spero di farlo a pezzi fuori con quest'arco no no oh che bello ok spero di usarlo un saggi sa eeeh oh che bello che bello ok tengele 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 sta arrivando sta arrivando sta arrivando eccolo vieni vieni qua vieni vieni eee boom ahahahah ok spero di fare una bella figura eeeh sento dei passi si risento dove potrebbe essere qui eccolo eccolo che schifo ok oh che schifo eee bang oh mamma mia che situazione ma questo esce da dal nulla eeeh no no aspetta ah oh 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 attenzione attenzione no 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 fermo ok 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 no no oddio per un pelo per un pelo per un pelo eeeh ah come godo ok c'è un superman nei paraggi si si sta volando sta volando sta volando eccolo eccolo su su fatti sotto fatti sotto ah ok ok oddio oddio fatti sotto aaaah ah qui è crepato qualcuno oddio eccolo lo sento lo sento ne sono due no è uno solo ah eccoti qua vieni vieni eeeh ah perfetto perfetto ah questo vuole sfidarmi eh vieni vieni eh vabbè ah si oh chi è che è quest'altro chi è oh oh cavolo cavolo ok vai vai oh si si oh mamma mia si ma io sento i passi li sento ma da dove aspetta 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 ah eccoti qua vieni vieni addio ma questo non sa giocare oh ah 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 Dove non so... Ah, eccoti qua. Allora... Ah, eccolo! Boom! Sono una macchina io. No, no, no. Allora, vediamo. Vediamo dov'è. Ok. Eccolo! Vieni qui, vieni. Vieni qui. Allora, vediamo. Uno, due, tre. Boom! Mamma mia, era un nabbo, un nabbo. Ecco che muore, ecco che muore, ecco che muore, eccola, eccolo! Oddio, che situazione, che situazione, oddio, eccolo, 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 meglio usare l'arco incendiario. Ok, 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 preso, preso, preso. Oh, no, 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 no. Ok, ok, con calma, con calma, con calma. Oh, bene, 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 bene. Questo lo faccio fuori, questo lo faccio... No, no, questo lo prendo. Ah, beh, perfetto, perfetto. E l'altro, l'altro dov'è, 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 dov'è? Eccolo qui! Sì! Sì! God!